Una buona giornata a tutti, Guido Bagatta con voi per chiudere la settimana. Oggi di che cosa parliamo? Di football NFL. Bel salto rispetto a ieri, ieri abbiamo parlato del nostro campionato di calcio e il non mercato per quanto riguarda le nostre squadre che non hanno speso praticamente nulla. Oggi parliamo di NFL perché nel weekend ovviamente si giocano le due semifinali, le due partite che porteranno al Super Bowl di Tempi in Arizona fra due settimane e qualche giorno in più, fra due domeniche, praticamente dopo domani. Sono due semifinali interessanti, speriamo, perché i playoff di quest'anno sono stati i più molli della storia del football. Non c'è stata mai una partita in equilibrio, non c'è stata mai una partita, esageriamo, all'overtime. Praticamente hanno vinto sempre le più forti, tranne in qualche caso, sorpresa, tipo i Giants che hanno vinto con Minnesota, salvo poi andare a Philadelphia e prendere una ripassata storica. Lì la colpa è di Minnesota che come solito tradisce in vista del traguardo. Quindi per adesso, quarti di finale e semifinale di conference, una delusione per quanto riguarda appunto la tensione del risultato. Per ciò che noi stiamo per vivere, speriamo invece che le due partite delle quali adesso vi parlo ci possano portare qualcosa di più. Iniziamo dalla National Football Conference, quella dove Philadelphia in stagione regolare è stata la miglior squadra, riceve San Francisco, una San Francisco che ha iniziato in un modo, ha continuato in un altro, ha finito in un altro ancora. Non perde da parecchio con un giocatore ancora senza la macchia della sconfitta. Sto parlando di Purdy, questo ragazzino venuto dal nulla nel ruolo più importante del football americano, quello del quarterback. San Francisco con lui, da quando è entrato, non ha praticamente mai perso, ovviamente incluse le due partite dei playoff. Continuerà la striscia? Difficile perché si gioca a Philadelphia, a parte il clima, fa molto più freddo. Si gioca con una squadra che quest'anno ha le basi per tornare e vincere il Super Bowl, davanti a un pubblico dei peggiori, nel senso buono o cattivo del termine, della NFL. O anche di tutti gli Stati Uniti, perché anche gli altri sport a Philadelphia hanno dei tifosi non tanto americani, molto europei o sudamericani. Partita difficile per San Francisco nelle mani di Purdy e nelle mani per Philadelphia di Jason Hurt, questo quarterback super moderno che sta dando grandi soddisfazioni in Pennsylvania. Dall'altra parte invece, attenzione, Cincinnati, che tutti dicevano Eh sì, è arrivata l'anno scorso al Super Bowl, dove peraltro ha perso con i Rams, così quasi per caso. No, ha fatto la stessa cosa l'anno scorso, ha iniziato male, si è ripresa, ha un quarterback che può fare la differenza, Borrow, un ragazzino, Joe Borrow, che al suo secondo anno vero sta dimostrando di essere proprio uno con gli attributi e come se ce li ha, ha il miglior ricevitore probabilmente di tutta l'NFL in Jammer Chase. Insomma, una squadra che può sorprendere tutti e potrebbe tornare al Super Bowl e magari chissà anche vincerlo. Prima però deve battere chi? Kansas City. Kansas City, campione due anni fa, Kansas City buonissima squadra che però dipende, lo abbiamo visto domenica scorsa, tantissimo da Mahomes. Altro quarterback, giovane anche lui, un po' meno giovane, ma stiamo parlando sempre di gente tra i 20 e i 30, all'arco costituzionale, dicevo un po' meno giovane di Borrow, ma uno giocatore che ha cambiato la vita dell'NFL è quella di Kansas City. La scorsa domenica si è fatto male a una caviglia, sembrava finita la partita, è andato negli spogliatoi, si è fatto mettere il tape, quello strettissimo, è tornato dentro, ha fatto il passaggio da touchdown, che ha fatto passare il turno a Kansas City. Settimana di passione per i tifosi dei Chiefs, con notizie di trattamenti alla caviglia, riposo, insomma giocherà, ma non sarà il Mahomes che era prima dell'infortunio di cinque giorni fa. Questo è il fattore per Kansas City, con Mahomes sano sicuramente Kansas City ha grandi possibilità di andare e di tornare al Super Bowl, con Mahomes a metà servizio Cincinnati è favorita. Questo è tutto, la fotografia di quello che vedremo appunto in queste semifinali e poi lunedì parleremo di cosa succederà al Super Bowl con le due squadre ovviamente che conosceremo per questa edizione della finalissima, anche se la parola è bruttissima perché la finalissima è qualcosa che non dovrebbe esistere, perché la finale è già la finale. Quindi togliamola di questa finale del Super Bowl, la finale del football americano. A lunedì. A lunedì. Grazie.